Le elezioni comunali di Frosinone, le primarie aperte che sono state indette dal sindaco uscente Nicola Ottaviani, alle quali lui stesso è candidato, ma il ponte di Bailey, l'ascensore inclinato, il bilancio, tanti altri temi ancora aperti, dei quali parliamo nel numero 249, anno settimo di Apporte Aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, oramai siamo alla terza puntata dedicata alle elezioni primarie di Frosinone, bentornato al professore Pierpaolo Segneri, buonasera. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Non ha portato la sfera gialla della volta scorsa? Ha avuto successo, tra l'altro parlando di rivoluzione cosmica, secondo me io devo ringraziare Teleuniverso anche per il nome, perché lanciare la rivoluzione cosmica a Teleuniverso è il massimo. Guardi, l'avevamo progettato apposta, avevamo previsto che lei si sarebbe candidato oltre 35 anni dopo la nascita di questa televisione. È stata la prima emittente a raccogliere questa iniziativa, questo progetto politico e il nome lo già preannunciava. Diamo il benvenuto a Domenico Fagiolo, bentornato, buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. È stato a vedere la partita del Frosinone, sì. E direi proprio di sì, due in rapida successione, direttore. Di fatto, insomma, l'allenatore avversario non l'è garbato più di tanto, vero? Parla di Drago? Draghetto è a casa, è parcheggiato in questo momento. Grisù. Grisù, esatto. Vuole mandare a casa pure Nicola Ottaviani o con lui invece un futuro? Con Nicola c'è una grossa simpatia, poi uno ci prova, però non ci riesce. Bentornato al sindaco Nicola Ottaviani, buonasera. Buonasera da voi e a tutti i telespettatori. Diamo il benvenuto in collegamento telefonico all'architetto Antonella Santori, che per questioni di lavoro oggi non ha potuto essere fisicamente con noi. Buonasera, architetto. Quanti si sono collegati adesso? Grazie, buonasera. Tetto, rompiamo il ghiaccio con lei. Giovedì cominciano i lavori per il ponte di Beli, che dovrebbe ricollegare due parti di Frosinone. La frana sotto il viadotto Biondi ha caratterizzato questa consigliatura. Dopo tanto tempo cominciano a vedersi le opere. Poi c'è anche questo ascensore inclinato. Secondo alcuni è stata una croce per questa amministrazione. Lei cosa pensa di queste due opere? Dunque, penso che comunque sono tutte e due opere essenziali per recuperare il collegamento tra le due parti della città, che altrimenti sono due parti completamente separate. E purtroppo l'ascensore inclinato è andato avanti a stinghiotti proprio per problemi di come è stato progettato, credo. Non so bene, ma comunque io lo farei, per quanto riguarda l'ascensore inclinato, io farei questo. Lo renderei gratuito anche il parcheggio dell'ascensore inclinato, per aumentare ancora di più la frequenza del numero di coloro che lo utilizzano. Ecco, è un'opera essenziale, sia l'ascensore inclinato che il ponte. Il ponte è ancora di più perché è rimasta tagliata fuori la parte bassa di Frosinone da quel momento in cui c'è stato il crollo, purtroppo. E fortunatamente adesso si comincerà e credo che è essenziale recuperare il collegamento, come dicevo prima, tra le due parti di città, soprattutto perché il centro storico è un bellissimo centro. Diciamo, la storia antica di Frosinone è proprio racchiusa lì, nel centro storico, che è stato anche dalle precedenti amministrazioni riqualificato. E quindi, anzi, io pensavo di suggerire a chi sarà il candidato sindaco, non so se sarò io, se sarà Ottaviani o se sarà uno degli altri due candidati, io comunque pensavo di suggerire una cosa, di abbassare le tasse per incentivare la ripresa del commercio, per quanto riguarda il commercio nel centro storico, perché proprio il commercio è morto ed è quello che, insieme alle manifestazioni che già l'Aggiunta Ottaviani ha promosso, al polo culturale che ha promosso, è il motivo per cui potrebbe rifiorire un po' il centro storico e rivitalizzarsi. Ecco quanto penso io. Grazie Architetto, allora poi l'aspettiamo nella prossima puntata, che sarà il giro finale prima del voto. Intanto ricordiamo una cosa, può essere rimasto stupito qualcuno nel vedere queste primarie aperte, in genere si è abituati a vedere delle primarie contro, dove gli avversari praticamente sgomitano, si mettono le dita negli occhi. È stato detto nella prima puntata, queste sono invece non delle primarie contro, ma delle primarie per la città. Un tentativo, insomma, di contaminazione delle idee. Una corsa nella quale, certo, Nicolo Ottaviani rispetto agli altri parte avvantaggiato, essendo il sindaco uscente, poteva anche evitarsi queste primarie, decide di farle e chi ha accettato la sfida fa delle primarie per la città e non contro direttamente Nicolo Ottaviani, perché per portare un contributo di idee e per sollecitare anche la realizzazione di alcune cose. Un modo per partecipare. Pierpaolo Segneri in queste ore scrive sul suo profilo Facebook, sono qui per convincere. Ci convinca Segneri, perché il popolo di Frosinone, i corsari di Frosinone, dovrebbero votare proprio Segneri e non Ottaviani? Ma anzitutto io voglio dire che queste primarie, proprio come premessa, hanno questa qualità, questa caratteristica, di porre la sfida su un livello più alto. Quindi il dibattito che sta venendo fuori, proprio tra di noi, tende ad alzare un po' il dibattito politico della città di Frosinone, è che a mio parere negli ultimi tempi si è abbassato un po' troppo, secondo me sotto il livello di guardia. E per evitare di andare ancora più sotto, ho pensato forse una candidatura, una presenza, che porti avanti questa idea corsara, anche rivoluzionaria, può essere anche il modo per far capire che, al di là di tutto, è vero che la sfida tra i contendenti è sempre una sfida affascinante, ce lo dice anche le elezioni adesso negli Stati Uniti d'America. Però, fino a che punto, fino a che livello, lo scontro tra Trump e Clinton è arrivato ormai alle estreme conseguenze. E noi, io credo, invece, in questo nostro dibattito, stiamo proponendo lo stesso una sfida, lo stesso un contraddittorio, lo stesso una diversità, ma senza arrivare a quel essere contro, a quello scontro che diventa un conflitto perenne, che non fa bene alla città. Cioè, è l'esempio, nei metodi, quello che dicevo già dalla prima puntata, i metodi e i meccanismi, dove c'è la possibilità di un dialogo, di un contraddittorio tra diversi, diversi significa che ognuno di noi ha una storia politica diversa, una storia personale diversa, ha anche idee diverse, forse ha una prospettiva della città anche diversa, forse anche a livello programmatico, ma qual è l'elemento convincente? Cioè, quello di vincere con, vincere insieme. Il fatto che siamo riusciti, almeno fino adesso nel dibattito, a poterci rispettare l'uno con l'altro, anche nelle diversità, anche se in passato ci sono stati, come ho sempre detto, tra di noi, magari degli scontri, dei contraddittori, ma qui c'è un salto di qualità da fare, un salto di paradigma, la volta scorsa parlavo dello statista, cioè la visione da statista, che pensa alle nuove generazioni, ai prossimi vent'anni, e non semplicemente alla prossima campagna elettorale. La riscoperta della parola e del tema confronto? Più che confronto, il confronto c'è sicuramente perché, diciamo, ognuno porta la sua propria diversità, però forse della parola ponte, visto che si parla del ponte, cioè la possibilità di costruire dei ponti nella diversità, e anche di incontrarsi, anche pensandola diversamente, ma è sempre un modo diverso, però per costruire qualcosa, non per distruggere. E questo, secondo me, rende le elezioni primarie proposte dal sindaco Ottaviani un'occasione unica. Diciamo, il fatto che siano aperte, il fatto che siano libere, il fatto che permetta ai cittadini di poter partecipare, andare a votare, senza chiedere né la tessera, né che tessera hanno in tasca, se dell'autobus o di un partito, è qualcosa che, secondo me, può avere una ricaduta, anche a livello nazionale, incredibile. Io dico, se qualcuno pensa che i cittadini frusinate siano non abbastanza intelligenti per capire l'importanza democratica di questa iniziativa, o pensa di evitare che si apra un dibattito e una discussione seria su questa proposta, che poi, ho detto, è una proposta che può diventare poi un processo politico, un progetto politico, significa che questo qualcuno sente la paura della libertà. Allora io mi domando, chi ha paura della libertà? Questa è la domanda che io pongo. E soprattutto, siccome ho una grande stima dei commentatori politici della provincia di Frosinone, opinion leader, osservatori, e io leggo sempre, leggo anche lei sul suo blog, eccetera, e mi nutro di queste cose, sulle primarie libere, sulle primarie per la città di Frosinone, finora non ho trovato delle analisi veramente di livello, come mi è capitato, e mi capito di leggere, su altri argomenti. Cioè, è come se queste primarie fossero liquidate, qualcuno dice, è una farsa, e quindi qui siamo dei buffoni, oppure qualcuno dice, sono solitarie, e allora vuol dire che se sono solitarie del sindaco, che io, l'architetto, Mimmo Fagiolo, siamo il nulla, perché se sono solitarie è anche offensivo. Però questo è il livello del dibattito politico a Frosinone. Di fatto quindi ci si è incancreniti sul fatto che siano delle primarie contro, in realtà sono delle primarie per. La sfida c'è, ma la sfida è più alta. Bisogna, io ho parlato dei corsari, del galeone, ho provato a dare una visione, che i cittadini ne ho capito benissimo, perché per strada qualcuno dice, eh, segnere, che studi da statista, oppure qualcun altro mi ha detto, ah, bella quell'idea dell'inquinamento della politica, che avevamo parlato l'altra volta, no? È piaciuto tantissimo ai cittadini. Invece ai commentatori questa cosa non è chiara. Allora può darsi che io non sia stato ancora in grado di spiegarlo bene, di spiegarlo al meglio, di essere chiaro. Siamo noi che siamo autoreferenziali, segnere. No, non lo so. Siamo noi commentatori che ci parliamo addosso. No, no, siccome io ho grande sì, ma siccome so che la lettura politica sulla provincia di Frosinone dei commentatori è di alto livello e di qualità, io voglio un invito, proprio un amore, proprio col sentimento, di chiedere e di fare uno sforzo per darmi una mano, anche a spiegarlo meglio, a dirlo meglio, magari facendomi anche delle domande più specifiche, più concrete, che mi permettano di spiegare quanto sono importanti queste elezioni primarie, quanto è importante la partecipazione dei cittadini, perché se i cittadini danno fastidio quando votano e qualcuno vuole lasciarli a casa e non mandarli a votare, i cittadini non sono stupidi e sanno che questo tipo di meccanismo va interrotto. Possono scegliere o di rimanere a casa come qualcuno vuole, oppure di andare a votare e con questo dare un segnale di democrazia e di libertà, al di là della persona a cui votano. Io già l'ho detto, siccome non mi sono candidato per vincere, l'ho detto, non mi sono candidato per vincere, per convincere, non voglio fare vice sindaco, non voglio fare assessore, non mi devo candidare al Consiglio Comunale né con Nicolo Ottaviani, né con Fabrizio Cristofra, né con Michele Marini, né con Iacovissi, con nessuno, allora mi sarei aspettato che cosa sta accadendo? Beh, prima di tutto sta accadendo che c'è la necessità di alzare il livello del dibattito politico, perché se no va a finire pure a parolarci che ogni tanto si sentono e che forse Beppe Grillo ha lanciato questa moda. Io penso che invece bisogna recuperare un po' il senso civico e il senso delle istituzioni e riuscire a recuperare... di ironia a volte, uscire dal ruolo, dal personaggio, insomma, anche con un po' di ironia. Allora, l'ironia è importante, tra l'ironia io pure sono ironico, per esempio un cittadino mi ha detto ma perché non vi siete accapigliati tu e Ottaviani? E perché Ottaviani passa dal barbiere prima di venire qui ogni volta, quindi non ci la pigli. L'ironia ci sta, anche il sarcasmo c'è, ma tra una battuta ironica e una battuta sarcastica in mezzo, ci vogliamo mettere qualche contenuto. Un po' di sostanza. Sentiamo anche Fagiolo, di fatto lancia questo tema, segneri, diciamo allora se sono delle primarie farsa noi siamo dei buffoni. Lei invece la volta scorsa e tu vengo con le mie idee, so bene che è difficile farcela contro Ottaviani però non rinuncio alla possibilità di dire alla città di Frosirone soprattutto Ottaviani quello che dovrebbe fare secondo me per la città e questo già è un risultato possibile. Basta questo per cominciare a convincere? Secondo me sì l'occasione che ci ha offerto Nicola con le primarie libere oltre tutte le cose corrette e giuste che ha detto il buon Corsaro il capo pirata come lo chiamo io ne parlavamo quando rientravamo dalla volta precedente è stato veramente offensivo leggere certi commenti di certi tipi secondo me i giornali che vendono quattro copie anzi ora tre che la quarta la compravo io a Frosirone ne sono rimaste tre comunque non è quello il problema ora bando a io sa che sono sempre contrario quando si parla insomma i giornali possono avere opinioni diverse dalla nostra però va detta la verità però sono opinioni vanno letti comunque per conoscere le opinioni si però deve dire la verità si condivide un giornale un giornalista dovrebbe riportare la cronaca di quello che è accaduto le idee se le fa lei e me le faccio io non è che lei mi deve inculcare le sue idee perché scrive sul giornale oddio i giornali oggi portano opinioni Fagiolo ok hanno detto che io ho detto che Frosirone è una città inquinata perché ero tifoso del Frosirone grosso modo c'era scritto questo che il Buonsegneri volava alto tridimensionale che Nicola si è scelto dei candidati pazzi tecnicamente perché questo ci vogliono dipingere comunque non ci interessa non è questo il problema torniamo a noi Danneggia i cittadini perché il dibattito ha valore se si dà anche valore alle persone se si sminuiscono le persone se si sminuisce lo strumento democratico hanno perso i cittadini non certo noi Nicola ha offerto un'occasione unica unica pensi i sostenitori del PD visto che non fanno le primarie possono venire tranquillamente il 13 novembre a votare cioè è bellissimo per loro possono votare contro Ottaviani votando uno di voi ad esempio per esempio secondo me non si presentano perché è difficile che la cosa avvenga qualcuno potrebbe venire Cristofari per esempio che ha uno spessore diverso rispetto agli altri senza mettere in difficoltà e tirare per i capelli qualcuno che non c'è non può rispondere è un'occasione unica per la città ma anche per lo stesso Nicola che ci ha dato l'occasione e forse tra le tante stupidaggini che molti dicono che io ho detto lui possa prendere qualcosa per buono di quello che io ho suggerito o quello che ha suggerito Segneri o l'architetto Santori senza problemi non ci accapiglieremo mai perché non ci può essere in una città che cerca di crescere e Frosinone sinceramente ha bisogno di crescere perché secondo me è stata saccheggiata depredata chiusa oscurantismo è stato fatto di tutto per limitarla per cui lui ha dato un'occasione a tutti quanti noi di dire quanto meno la propria e cercare di dargli un suggerimento se era possibile tutto qui Sindaco lei già la volta scorsa ci ha detto queste non sono assolutamente delle solitarie e la vera sfida spiegata nella prima puntata era non tanto quella delle primarie contro ma appunto le primarie per certo essere i primi a proporre una cosa del genere molte volte o si rischia di essere presi per matti oppure di essersi costruiti il giocattolo a proprio uso e consumo invece che reazioni ci sono state in questi giorni ma io voglio indicare quella che è stata la reazione che poi è stata una grande pubblicazione che c'è stata di recente da parte del direttore del tempo il direttore del tempo su un quotidiano Marco Chiocci Chiocci appunto a tiratura nazionale e stiamo andando quindi di un organo storico importante del panorama nazionale il direttore Chiocci di recente ha evidenziato come queste primarie che si stanno facendo a Frossilone possono essere davvero il punto di riferimento per le primarie sia a sinistra che a destra che al centro cioè il regolamento che noi abbiamo portato avanti al quale si faceva anche il riferimento prima è un regolamento che permette a chiunque di partecipare direttore a differenza di chi fa le primarie in alcuni partiti che sono talmente chiuse da diventare non solo asfittiche ma anche asfissianti quelle primarie che ti prendono al collo che ti dicono ma fammi vedere che codice genetico hai il cromosoma tuo se è di un gruppo oppure di un altro gruppo fammi vedere che tipo di albero genologico hai noi abbiamo detto bastano dalle 30 alle 60 firme per proporre la propria candidatura come hanno fatto i quattro candidati che si sono proposti non c'è nessun vincolo particolare addirittura sono talmente libere che teoricamente chi chiede di partecipare alle primarie vuole partecipare alle primarie magari dovesse arrivare secondo terzo quarto quinto è talmente libero di candidarsi anche in un altro schieramento questo che cosa significa che alla fine noi diciamo con chi ci andiamo a parametrare con l'elettore con quello che pensa che dall'altra parte del teleschermo come si diceva una volta del tubo catodico oggi è digitale non è più catodico ma l'alternativa oggi alle primarie direttore questo lo diciamo nelle amabili ghiacchierate che alcune volte cerchiamo di portare avanti anche per confrontarci qual è l'alternativa alle primarie oggi la democrazia virtuale quella digitale quella fatta con gli sms o con i social network dove non si ha la possibilità di avere il contatto con il delegato perché poi l'amministratore pubblico o il politico è il delegato e lo si vede per la prima volta in carne e ossa soltanto dopo l'elezione e ci sono grandi sorprese come di recente è avvenuto anche su Roma dove la democrazia digitale quella virtuale che non è quella reale ha portato addirittura a vincere amministratori che hanno rinunciato d'amblè a qualche cosa come investimenti per 6 miliardi di euro stiamo parlando della vicenda delle olimpiadi tanti romani sappiamo che poi si stavano mangiando le mani per dire ma chi abbiamo mandato lì non c'è stata la possibilità di guardare nelle palle degli occhi chi veniva mandato a rappresentare Roma noi abbiamo fatto un'operazione completamente diversa abbiamo detto chiunque può raccogliere dalle 30 alle 60 firme si può cimentare con noi alle primarie il sindaco le può vincere le può perdere altri le possono vincere le possono perdere ci possono essere delle coalizioni che si possono creare già in questa prima fase per dei giochi di interdizione ma soprattutto devono essere come dicevano prima i nostri due amici primarie di idee perché qui nessuno può indossare le vesti di Socrate e dire di sapere anzi Socrate diceva so di non sapere il gnotis autonno è quello che ha formato la nostra vita preuniversitaria quindi grazie a questo tipo di confronto come lo definiva lei prima direttore è possibile tirare fuori quella che è una sintesi migliore una sintesi superiore perché io posso avere delle idee sull'urbanistica altri possono avere delle idee sull'ambiente alla fine ci si confronta ma non ci si confronta nei 30 giorni finali della campagna elettorale dove si dice tutto il contrario di tutto dove spesso si è in preda più al marketing che non a quello che è il profilo della delega e della comprensione della partecipazione democratica qui oggi 8 mesi prima delle elezioni c'è la possibilità di costruire un progetto dove indipendentemente da chi poi andrà a rappresentare come sintesi finale questo progetto indipendentemente da chi poi farà la testa da riede in questo progetto ci sono tante persone che contribuiscono alla formazione di questo tipo di dibattito democratico io vedo che l'alternativa a questo che cos'è primarie che prima vengono indette e poi vengono ritirate perché non c'è nessuno che si candida e addirittura c'è qualche partito che non vale neppure la pena nominare che dice no ma l'abbiamo fatto per l'unità del partito e per l'unità della democrazia per la celebrazione della democrazia non si fa nulla quindi le primarie noi ribadiamo sempre questo concetto non sono appannaggio di una parte politica soltanto le primarie nascono in Pennsylvania nel 1847 quindi nascono nella più grande democrazia al mondo poi sono state emulate sono state scimmiottate forse in qualche altra parte del nostro globo sono arrivate anche in Italia e ora le primarie devono essere a nostro sommesso avviso addirittura normate quindi devono essere disciplinate per legge in modo tale che c'è la possibilità di sostituire con le primarie quelle che sono le vecchie sezioni di partito che spesso sono polverose costose e clientelari le primarie servono quindi a individuare quella che è una classe dirigente che poi va alla fine a contrapporsi ma nel senso dialettico nel senso egeliano nel senso positivo del termine all'altra classe dirigente che viene contrapposta all'interno del maggioritario del resto se noi in tutto questo sindaco tanto è chiarissimo questa ampia premessa qui però andiamo un attimo alla ciccia di Frosinone giovedì cominciano i lavori per il ponte di Beili con i quali quindi ricollegare questo viadotto biondi che è franata la strada perché ci ha messo tre anni per fare questo ponte è un ponte che si fa in due mesi lei ci mette tre anni per cominciare i lavori dica la verità se l'hai portato a ridosso delle elezioni così che bravo Nicola adesso prima del voto ci fa anche ritornare a percorrere il viadotto allora grazie al cielo ci sono i ritagli di stampa e soprattutto andando su internet è possibile capire che cosa è successo nella frana del viadotto biondi noi siamo nel periodo del febbraio marzo 2013 in quel momento noi ricevemmo politici da ogni parte del globo possiamo dire ad Orbe Terrarum venirono qui a Frosinone a dire noi restituiamo alla città immediatamente la possibilità della ricucitura zona bassa zona alta noi non abbiamo avuto fondi non abbiamo avuto finanziamenti non abbiamo avuto nulla e il distesto idrogeologico direttore è bene questo ribadirlo perché purtroppo poi come stampa non passano quelle che sono le competenze ma passano messaggi spesso di carattere generale il distesto idrogeologico è un po' come se fosse la materia della sanità non rientra nella competenza del comune il distesto idrogeologico rientra nella competenza di un'unica autorità che è la regione tutt'al più se stiamo parlando di disastri e noi abbiamo sfiorato il disastro al via dottobiondi quel fenomeno può rientrare nella competenza del ministero dell'ambiente nel nostro caso specifico abbiamo visto tanti politici a livello regionale a livello nazionale venire e dire non vi preoccupate perché porteremo a frusione i soldi e di qui a breve partiranno anche lavori di bonifica non del ponte in sé perché il ponte è un segmento di tutta la vicenda ma di tutto il versante in frana quindi stiamo parlando di tutta la zona che va da Biale Roma tanto per essere chiari fino a piazza Sant'Omaso d'Aquino stiamo parlando di una zona molto estesa che venne tra l'altro investita all'inizio degli anni 80 da un altro grande fenomeno franoso per il quale venne emanata una legge speciale dello Stato calcolo di direttore che vennero stanziati qualche cosa come 30-40 miliardi delle vecchie lire divisi in tre annualità c'era il progetto di Angelo Ficano che prevedeva ci fu la prima annualità quella più piccola per fare il progetto poi non è stata più finanziata la legge purtroppo la legge venne finanziata in parte e comunque sia quei lavori di fatto oggi abbiamo compreso che non sono stati lavori effettuati a regola d'arte quindi che cosa succede nel 2013 metà 2013 sembrerà che qualche cosa si stesse muovendo a livello regionale dopodiché si arriva alla paralisi totale noi abbiamo chiesto a più riprese alla regione di intervenire e ci siamo resi conto che probabilmente al di là di quelle che possono essere delle questioni di lana caprina forse è stato sottovalutato il problema sotto il punto di vista tecnico tant'è vero che più di qualcuno ha voluto sottolineare come il progetto di carattere regionale forse si sia soffermato troppo su quella che è la sommità del versante e non la zona di mezzo tant'è vero che poi ci si è accorti che per arrivare alla sommità bisognava prima bonificare la zona da basso poi quella di mezzo e poi arrivare all'apice della frana quindi quando ci siamo accorti direttore che obiettivamente stavano languendo le procedure da altre parti e quindi in altre competenze noi ci siamo attivati ma non ci siamo attivati adesso ci siamo attivati direttore due anni fa il problema è che come al solito come avviene in Italia ci sono delle gare queste gare d'appalto hanno una vita possiamo dire una patologia non una fisiologia che è notevole sotto il punto di vista dei corsi e dei controricorsi abbiamo dovuto rifare la gara in due occasioni distinte gara che è stata giudicata lo scorso anno dopodiché è partita una corsa contro il tempo per circa 12 mesi per ottenere l'autorizzazione dal Genio Civile Genio Civile che devo ringraziare perché hanno dato una serie di suggerimenti importanti e soprattutto abbiamo svolto questo tipo di riflessione nel corso degli ultimi mesi ossia sì voi state realizzando un'opera che parte come un'opera temporanea un'opera di protezione civile e se poi i lavori quelli di bonifica del versante dovessero tardare che cosa succede perché deve sapere il direttore che le opere temporanee possono avere una durata di esercizio non superiore a 24 mesi quindi ci siamo posti il problema di quello che stava avvenendo e visto che i lavori il ponte non può restare in esercizio il ponte di Beli per più di 24 mesi perdono ecco partiva come ponte temporaneo perché non poteva avere una durata di esercizio superiore a 24 mesi e quindi la prima parte dei calcoli che noi abbiamo effettuato la progettazione che noi abbiamo effettuato e anche le prime bozze di lavorazioni dovevano essere parametrate a 24 mesi quando ci siamo resi conto nel corso dell'ultimo anno che i lavori sotto il punto di vista regionale continuavano a tardare ci siamo posti il problema di che cosa poteva avvenire oltre i 24 mesi quindi abbiamo riconvertito questo progetto in un progetto che può anche essere definitivo ma noi ci auguriamo che non sia definitivo che cosa significa che con questo progetto approvato dal Genio Civile con le integrazioni che abbiamo effettuato con il professor Quintilio Napoleoni che è il titolare del Dipartimento di Ingegneria e di Sistemi Idraulici della Sapienza abbiamo realizzato con questa società olandese che si occupa di ponti in tutto il mondo un progetto che ci permette eventualmente di andare anche oltre i 24 mesi che cosa significa che ci auguriamo che l'intervento della regione arrivi da qui ai prossimi due anni se non dovesse arrivare noi siamo tranquilli che quel ponte può rimanere lì anche per un numero considerevole di anni certo ci auguriamo sotto il punto di vista architettonico ambientale e anche di ingegneria naturalistica che il nostro non sia un intervento definitivo che quindi sia un intervento solo da ponte si passi l'espressione rispetto a quello definitivo però con questo tipo di attività possiamo rassicurare e tranquillizzare i nostri cittadini che qualsiasi cosa dovesse succedere se ci dovessero essere ritardi ulteriori a livello regionale o a livello di Ministero dell'Ambiente noi possiamo ricollegare la città zona bassa zona alta quindi siamo intervenuti direttore e questo voglio ribadirlo perché forse questo concetto non è stato approfondito adeguatamente noi siamo intervenuti solo sul profilo della circolazione stradale non sul profilo del versante in frana perché il profilo del versante in frana rappresenta un po' come la competenza della sanità che è sottratta alla competenza di un comune capoluogo un comune capoluogo può essere interpellato sulla materia della sanità ma non gestisce direttamente la sanità che cosa significa che se anche noi avessimo avuto 10 miliardi di euro in cassa facciamo un paradosso non avremmo potuto utilizzare quei 10 miliardi di euro in cassa perché la competenza del risanamento idrogeologico spetta alla regione o spetta al ministero non spetta al comune di Frosinone noi siamo andati ad allungare la gamba sostanzialmente come per un incontro di calcio per dire vogliamo riappropriarci di un pezzo di quella competenza che è quella relativa alla circolazione stradale perché riteniamo che zona bassa e zona alta non possano continuare in questo modo quindi non è che siamo intervenuti tardi noi siamo intervenuti quando ci siamo resi conto che probabilmente le lungaggini burocratiche e amministrative rischiavano di condizionare questa vicenda ancora per troppi anni quindi abbiamo reperito le risorse perché direttore stiamo parlando di risorse che provengono dagli oneri concessori quindi da licenze edilizie concessioni edilizie che abbiamo sbloccato quelle risorse le abbiamo reinvestite sulla collettività perché noi da parecchi anni purtroppo non possiamo più effettuare mutui come ne abbiamo già parlato di recente il nostro è un comune che è stato preso in uno stato di predissesto quindi per risanare i conti pubblici noi non potevamo contrarre nuovi mutui né con la cassa depositi e prestiti né tantomeno con le banche ordinari quindi per fare questo ponte abbiamo sbloccato una serie di licenze una serie di permessi a costruire e gli oneri che sono entrati in cassa li abbiamo reinvestiti sulla collettività per un'opera che sicuramente è di grande interesse pubblico Signeri con i galeoni corsari non si può certo andare da una parte all'altra di Frosilone al limite si può navigare il fiume Cosa però comunque c'è la questione di ricucire la città e quest'opera ha detto il sindaco arriva a distanza di tre anni a causa della burocrazia il comune ha fatto la sua parte la competenza in realtà ci ha detto non era la nostra ma visto che questi tardavano abbiamo detto vabbè col pretesto di riappropriarci del problema della circolazione stradale ci mettiamo mano noi resta comunque il problema poi di tutto il versante in Frana e a questo punto per parlare di questa Frosinone che Signeri vorrebbe ridisegnare ricostruire e comunque questo ponte arriva in tempi che da cittadino ritiene accettabili o la burocrazia o Ottaviani non è stato capace di affrontare adeguatamente la burocrazia oppure dovevamo approfittare della tragedia e ridisegnare un'altra viabilità per Frosinone ovviamente fare demagogia è facile dire che i tempi sono stati troppo lunghi è ovvio che in questi ultimi anni il centro storico ha risentito pesantemente anche di questo aspetto che non è l'unico cioè quello del viario della viabilità in particolar modo legato al ponte del viadotto biondi è uno degli elementi a cui possiamo aggiungere il problema di una crisi economica che è appesato il problema che comunque la città si è estesa più verso la parte bassa e quindi a livello commerciale a livello di anche altre iniziative si sono accresciute quelle della parte bassa diciamo che l'amministrazione del sindaco Ottaviani ha avuto un occhio molto attento al centro storico ma non è stato sufficiente perché come si sa e come tutti i cittadini che vivono o hanno il proprio esercizio commerciale al centro storico si sentono delle lamentele quindi sicuramente qualcosa in più si doveva fare e si può fare l'altra volta ho parlato della città visibile questa è diciamo l'idea che potrebbe funzionare siccome Italo Calvino scrisse il famoso romanzo le città invisibili parlando di città fantastiche quasi il Marco Polo che va in Cina la città visibile significa una città che ritrova la sua forza di presentarsi all'esterno non ritrovando la sua diciamo caratteristica anche culturale anche artistica cioè Frosinone ha già in sé nella propria identità come diceva l'altra volta il sindaco Ottaviani grazie al teatro Nestor del Comune grazie all'Accademia delle Belle Arti grazie al Conservatorio c'è anche una sezione dell'università all'ex tribunale eccetera c'è il famoso teatro Vittoria che è anche un altro spazio che si può recuperare una serie di luoghi di spazi che possono dare forza non solo alla città riscoprendo una propria fissionomia ma fare in modo che questa fissionomia sia conosciuta anche all'esterno io lavoro a Roma e quindi mi rendo conto anche quando mi trovo a contatto con altre realtà che io diciamo essendo frusinate vivendo a Frosinone avendo la residenza a Frosinone mi sento anche responsabile quando dico faccio una cosa proprio in virtù del fatto che spesso e volentieri a Roma si tende a guardare verso Frosinone come la provincia dei Burini ecco siccome io non voglio che venga questo io a Roma cerco di avere quando è possibile anche nello scherzo nella cosa comunque un tono che possa permettere anche attraverso una testimonianza un profilo più alto ed è quello che la città di Frosinone può guadagnare diventando con una serie di iniziative di proposte a partire secondo me dal centro storico e da queste realtà può diventare una città visibile cioè che si può far conoscere verso l'esterno per le sue qualità che sono tante per fare tutto questo però c'è bisogno dello sforzo collegiale collettivo di tutti i cittadini perché non lo può fare Pierpaolo Segneri da solo non lo può fare Nicola Ottaviani da solo non lo può fare Mimmo Fagiolo da solo c'è bisogno che i cittadini diano il loro segnale di partecipazione di consapevolezza e che possano finalmente trovare la possibilità di esprimerla queste elezioni primarie sono questa possibilità perché secondo me c'è una situazione ingessata a livello nazionale e con questo concludo sul piano dell'assetto politico ecco perché è interessante e io ho sempre definito la mia candidatura come politica perché l'assetto politico io oggi non ho portato la pallina ma ho portato questa è una medaglia non ho vinto nessuna medaglia però questa è la rafficurazione metaforica dell'assetto politico che c'è a mio parere a livello nazionale qui abbiamo il famoso progetto mettiamolo in favore di telecamera del partito questo è il partito della nazione il partito della nazione che è quello che pare essere dominante in questo momento dietro c'è l'alternativa che è rappresentata al Movimento 5 Stelle e in mezzo questo contorno questa cintura diciamo è la Lega di Salvini più i fratelli d'Italia della Giorgia Meloni questo è l'assetto uno può anche cercare l'alternativa ma sempre questa medaglia è sempre la stessa moneta di vecchio conio invece le elezioni primarie che stiamo provando a fare a Frosinone che sono rivoluzionari perché aperte perché libere sono altro da questo schema bloccato che impedisce anche al paese e quindi anche a Frosinone di fare un salto in avanti rispetto a una situazione di democrazia bloccata io la chiamerei democrazia reale o comunque il sindaco parlava di democrazia virtuale democrazia reale che è diversa dalla democrazia liberale che è proposta con queste elezioni primarie se Frosinone troverà la partecipazione di cittadini in queste primarie può essere l'inizio per la città visibile in alternativa a quella invisibile di Italo Calvino per fare un riferimento letterario e quindi la mia proposta per la città di Frosinone è quella di lanciare un grande magari accademia dello spettacolo del teatro del cinema partendo dal teatro Nestor di Frosinone che porti giovani nuove persone altre professionalità a Frosinone riabitare il centro storico in maniera produttiva creando posti di lavoro creando occupazione creando quell'entusiasmo che ho voluto diciamo metaforicamente lanciare con l'idea dei corsari cioè questa voglia di riprendere coscienza civile e civica e ripresentarsi davanti al futuro con la voglia di ricostruire e non sempre comunque di distruggere sia che sia con l'ironia sia che sia col sarcasmo quindi Fagiolo allora facendo la sintesi di quello che ci dice Segneri è vero ci è voluto tempo per avviare questo progetto nel frattempo però comunque la zona del centro storico ha avuto dei ritardi nello sviluppo nel rilancio che sono stati decisivi la proposta di Segneri è quella di puntare quindi su dei corsi altamente qualificanti magari di cinematografia magari di teatro proprio per attirare gente da fuori Frosinone quindi idee nuove capitali nuovi movimento in più per la città intanto ma lei aveva mai pensato di arrivare a un certo punto a essere una parte anzi fuori dalla medaglia perché qui in questa medaglia queste primarie non ci sono c'è un lato c'è l'altro c'è il contorno voi non siete assolutamente nessuna di queste parti il Ponte di Beli arriva troppo tardi come dice Segneri in effetti ha rallentato anche lo sviluppo della parte alta di Frosinone e cosa potrebbe essere una proposta da dare eventualmente a Ottaviani per dare anche un ulteriore senso a queste primarie per chiedere il rilancio della città allora primo sulla medaglia visto che era l'ultimo degli argomenti no penso Segneri abbia ben espresso il concetto politico attuale io mi identifico in questa situazione io sto fuori da quella medaglia l'ho detto nella mia quando qualcuno mi ha chiesto ma perché partecipi non trovo un partito in cui mi identifico Ottaviani offre l'occasione con le primarie libere proviamo a fare qualcosa prima era la prima della domanda che mi faceva sul ponte sul viadotto a Biente ponte Beli ai tempi io non credo che abbiano inciso hanno provocato una disertificazione del centro storico cioè chi aveva qualche attività centro storico importante è scappato dal centro storico la colpa non è di Ottaviani è della burocrazia e di tutto quello che succede rivitalizzare il centro storico diverse deve essere un'alchimia bisogna essere bravi bisogna essere creativi e bisogna avere un po' di coraggio attualmente il centro storico se lei intende il centro storico dall'arco Campagioni per arrivare a Porta Garibaldi escluse non lo so posso contare 7-8 attività il resto è tutto chiuso ci sono decine di serrande abbassate io lo dicevo l'altra volta proverei perché vidi a Salerno all'epoca che De Luca che non mi piace ma che lì ha fatto bene riattivò il centro storico in pochissimo tempo con l'aiuto di tanti giovani cooperativi giovani cooperativi inteso di giovani che creano una società per aprire un locale qualcosa di giovanile sgravi cioè trovare il modo più incisivo possibile per poter dedicare quella zona ai giovani se quella zona è vissuta si rivitalizza si riporta il tutto alla normalità se l'ascensore inclinato no inclinato inclinato lo riusciamo a rimettere in piedi sarebbe il caso perché quello anche aiuta e favorisce molte attività sinceramente sono scappate dal centro storico quando c'è stato il problema blocco dell'ascensore il viadotto biondi alcune attività importanti non occorre che io faccia i nomi ma il buon Nicola sa bene a chi mi riferisco è scappato d'estate hai il problema tra virgolette c'è il dei conservatori il festival dei conservatori per cui sei costretto giustamente a chiudere la strada non hai l'ascensore che funziona il viadotto biondi è chiuso è dura è dura da gestire quindi secondo me bisogna essere coraggiosi e fare quello che ha fatto lui sostanzialmente sul ponte è corretto non aspettare la regione anche perché glielo ho detto la volta precedente finché Zingaretti non va in campagna elettorale a Frosinone non arriverà un centesimo per fare il ponte questa è la mia idea la pubblicità non vi muovete un minuto e mezzo e torniamo insieme noi ci facciamo un bicchiere d'acqua seconda parte di a porte aperte stiamo parlando di primarie a Frosinone sindaco Ottaviani che acqua sta per arrivare ai suoi concittadini perché insomma lei ci ha detto abbiamo ereditato i conti di questo comune che erano in predissesto abbiamo messo in ordine i conti li abbiamo messi in sicurezza in genere si dice è passata la festa gabbato lo santo cioè una volta fatte le elezioni qualora dovesse vincere Nicola Ottaviani aumenterebbero le tasse comunali per fare fronte a questa situazione che è maturata negli anni o gli imprevisti che nel frattempo ci sono stati a che cosa dovrete mettere mano? in realtà noi abbiamo inserito una sorta di pilota automatico direttore questo l'abbiamo già fatto dal 2013 2014 perché che cosa è avvenuto quando la Corte dei Conti ci ha sostanzialmente messo alle strette dopo che noi siamo subentrati in amministrazione comunale e ha detto la Corte dei Conti a noi insieme all'amministratore degli interni guardate che voi siete in fascia di criticità strutturale significa che non è che dovete pagare un singolo debito criticità strutturale come se un'azienda fosse stata dichiarata insolvente quindi un'azienda per la quale dovete soltanto portare il registro in tribunale in quel caso sotto il punto di vista dell'azienda pubblica perché stiamo parlando di comune non si portano il registro in tribunale ma si fa la dichiarazione di dissesto e tanti amministratori tanti anche ex sindaci del passato nel 2012 dicevano che avrebbero voluto dichiarare il dissesto fare lo stato di dissesto perché in quel modo si sarebbero sgravati da una serie di responsabilità il problema qual è che ci sono comuni a noi vicini anche sotto il punto di vista territoriale come Terracina che dovevano uscire dallo stato di dissesto perché doveva durare soltanto per due o tre anni Terracina sono dieci anni che ancora sta sotto stato di dissesto che cosa significa che devi sostanzialmente staccare la spina non puoi gestire attività sotto il punto di vista dei nuovi investimenti non puoi fare gli investimenti sulla cultura non avremmo potuto comprare il teatro ad esempio il teatro comunale non avremmo potuto fare il nuovo stadio nel quartiere Casaleno non puoi fare nulla se non l'attività ordinaria noi che cosa abbiamo detto abbiamo chiesto una moratoria alla corte dei conti abbiamo approvato siamo stati l'ottavo comune capoluogo italiano a fare una cosa del genere un piano di risanamento decennale quindi i 50 milioni di euro di debiti li stiamo spalmando in dieci anni quindi non è che ci possono essere sorprese per il futuro ci siamo vincolati a pagare una rata di 5 milioni di euro all'anno al ministero degli interni per rifondere il ministero di questa sorta di anticipazione di credito che ci ha fatto per pagare però chi direttore centinaia e centinaia di imprese che cosa sarebbe avvenuto se avessimo dichiarato il dissesto che quelle imprese che dovevano avere i soldi dal comune da 5 anni 10 anni e via dicendo sarebbero state dichiarate loro fallite e quindi avremmo messo sull'astrico centinaia e centinaia di famiglie abbiamo preferito ridurre tutte le spese voluttuarie tutte le spese non necessarie e in questo modo siamo riusciti a investire sulle stesse casse comunali utilizzando quelli che sono i proventi degli oneri concessori i tributi comunali sono rimasti in media rispetto a quella che è la media nazionale anche perché sarebbe stato inutile innalzare troppo i tributi quindi siamo riusciti a gestire i soldi dando la dimostrazione che il poco che c'era in cassa se utilizzato bene può produrre anche grandi risultati facciamo ad esempio il caso di una stagione teatrale la stagione teatrale che in questo momento è al teatro municipale Lestor è una stagione culturale teatrale che non ha un costo inferiore a 160-200 mila euro non abbiamo però speso quei soldi abbiamo contattato un'associazione che poi è una sorta di impresa che si occupa della gestione di questi spettacoli e abbiamo detto guarda diamo in gestione a te tutta la stagione teatrale l'importante è che il prezzo del biglietto non sia superiore alle 10-12 euro che significa qualche cosa in più rispetto a quello che è il prezzo del biglietto per un cineforum in questo modo sull'impresa abbiamo sostanzialmente dirottato quello che era il rischio della stagione teatrale abbiamo risparmiato 160-180 mila euro la collettività può avere una stagione teatrale con un cartellone che non solo è di tutto rispetto ma è identica rispetto a quella della Sistina e dei grandi teatri romani e così abbiamo fatto in altre occasioni quindi ci siamo inventati un po' quello che era il profilo della gestione imprenditoriale non avendo i soldi in cassa e le posso dire che amministrare con i soldi è semplice amministrare senza i soldi alcune volte diventa anche emozionante vogliamo fare un esempio che in questi giorni è un esempio che sta riscuotendo molto successo all'interno del nostro comune capoluogo lei avrà visto direttore che dopo aver risolto molto bene la vicenda della Montilepini la Montilepini è fatta di due tratti il primo tratto è stato completamente sbloccato quindi abbiamo realizzato le quattro rotatorie la pubblica illuminazione ecco dopo l'illuminazione a led sulla Montilepini noi siamo passati all'illuminazione su tutto il resto della città come abbiamo fatto si trattava di un investimento direttore probabilmente attorno ai 20-25 milioni di euro lei immagini con le nostre casse come avremmo mai potuto riqualificare il sistema della pubblica illuminazione non abbiamo fatto altro che vedere qual era la somma e quindi il rateo che ogni anno il comune di Frosinone andava a pagare alle imprese di gestione dei cavi e soprattutto del servizio della pubblica illuminazione per capire quanto effettivamente noi sborsavamo abbiamo fatto un calcolo eravamo attorno al milione e mezzo di euro all'anno con l'efficientamento energetico che cosa significa sostituire le lampade passare dalle vecchie lampade a vapore di sodio alle lampade a led abbiamo calcolato un risparmio attorno al 35-40% quel risparmio non potevamo utilizzarlo noi direttamente perché avremmo dovuto portare avanti un investimento di 20 milioni di euro allora che cosa abbiamo detto cerchiamo un gestore abbiamo fatto una gara ha risposto un gestore internazionale stiamo parlando di Engie quindi stiamo parlando di uno dei più grandi gestori in Europa che ha apprezzato questo nostro bando e questo gestore che cosa fa rispetto alla base di gara di un milione e mezzo di euro all'anno si è giudicato il tutto nell'ordine di un milione e cento quindi noi sostanzialmente abbiamo risparmiato 400 mila euro all'anno il gestore riesce a ricavare il profitto sulla scorta del 35% del risparmio perché è l'abbattimento della bolletta della bolletta elettrica che ha con il nuovo impianto e non solo stiamo rimodernando tutta la rete per cui entro aprile arriveremo a 9000 punti luce sulla città completamente a led completamente riqualificati ma cosa ancora più importante si avrà il controllo remoto del palo della pubblica illuminazione quindi che cosa avviene nel caso in cui quel palo dovesse rimanere spento per evitare di ripetere quello che è avvenuto con Acea dove non è possibile da parte del comune intervenire se c'è una perdita idrica ma dobbiamo attendere Acea il comune si è riservato il diritto di surroga che cosa avviene il comune può intervenire tira fuori quello che è il costo di intervento e alla fine dell'anno lo addebita al gestore secondo quella che è la propria tariffa è chiaro che a quel punto il gestore non ha interesse a farsi attribuire un costo più alto rispetto a quella che può essere una semplice riparazione e ultimo elemento importante che abbiamo tirato fuori con il nuovo sistema della pubblica illuminazione c'è la messa a norma di questi singoli pali che cosa avviene lei avrà visto che non soltanto da noi ma in genere un po' in tutta Italia ogni tanto alcuni di questi pali addirittura vengono giù perché non sono stati ben costruiti gli impianti o perché è mancata la messa a norma c'è l'obbligo da parte del gestore di procedere alla messa a norma alla sostituzione dei pali e addirittura alla verniciatura con colori accesi nel 20% di tutta quella che è la dotazione dei quartieri in città che cosa significa che andiamo a rifare anche il look dei quartieri questo che cosa significa che quando i soldi non ci sono bisogna inventarsi delle idee per procurare un profitto che non si è esagerato per il privato ma che dia la possibilità alla pubblica amministrazione di realizzare l'interesse pubblico quindi l'interesse collettivo grazie alla managerialità dato telegrafico perché poi voglio sentire segneri quando siete entrati a quanto tempo pagavate una fattura dopo aver messo i conti in ordine con il pilota automatico come ha detto lei adesso se io faccio la fattura dopo quanto tempo me la pagate ha ricordato un altro elemento importante che ci pone in media con quello che è il profilo nazionale noi siamo entrati avevamo un tempo medio di pagamento delle fatture che addirittura sfiorava i 400 giorni quindi oltre un anno quasi un anno e mezzo per il pagamento delle fatture dei vari clienti del comune chiamiamoli così i fornitori del comune adesso noi siamo arrivati a ridosso di quella che è la media nazionale e dobbiamo rimanere all'interno di quel parametro perché altrimenti la corte dei conti e il ministro degli interni giustamente bacchettano il comune quindi paghiamo le fatture addirittura a 60 giorni e in molti casi arriviamo a 30 giorni questo significa che le imprese che lavorano con il comune hanno certezza di avere i conti in regola perché dialogano con un soggetto che ha i conti in regola quindi abbiamo agito come il buon padre di famiglia che si rende conto che creare interesse e ricchezza significa crearlo anche all'esterno creare problemi significa riversare sulla collettività i propri problemi di gestione quindi abbiamo dato una immagine di efficienza ma anche di buona maggiorialità segneri io so che lei insomma tra i galeoni i dobloni e questi pensieri così alti però essendo un candidato alle primarie un'idea di politiche fiscali per una città seppure per grandi linee dovrebbe esserci perché un'idea comunque per il rilancio di una zona della città prima ce l'ha data è anche interessante perché comunque è un'idea che attrarrebbe gente da fuori quindi economie fresche forze fresche altre intelligenze e comunque è un'iniziativa culturale che qualifica politiche fiscali che idea ha in merito? Anzitutto volevo premettere che io mi sono candidato al Consiglio Comunale di Frosinone nella mia storia diciamo a partire dal 1995 e ho partecipato alla stesura dei vari programmi sia con le varie forze con cui mi sono candidato anche nella stessa diciamo nella stessa tornata dando un contributo di idee di programmi a liste tra loro contrapposte mi sono candidato nel 1995 nel 1998 nel 2002 nel 2007 sempre al Consiglio Comunale sempre non essendo eletto cioè l'unica volta che sono stato eletto al Consiglio Comunale di Frosinone sono stato ripescato perché nel 1995 l'attuale sindaco Nicola Ottaviani si era candidato con una lista civica si chiamava Movimento Costituente e ovviamente non venne eletto sindaco venne eletto Paolo Fanelli che era il sindaco che invece io sostenevo però non essendo stato eletto ero il primo dei non eletti e Nicola Ottaviani entrò in maggioranza quando il gruppo Nicola Ottaviani uscì dalla maggioranza ci fu un rimpasto di giunta io entrai in Consiglio Comunale con lui all'opposizione io in maggioranza e quindi stiamo parlando di 20 anni fa e questo per dire che a livello programmatico sicuramente io ho ripetuto ribadisco ho delle idee e le voglio proporre ma a livello metodologico come ho detto già nella prima puntata e anche nella seconda il mio interesse qualora dovesse essere io il candidato sindaco scelto dai cittadini di queste primarie io mi rivolgerei ai cittadini stessi e cercherei di trovare quei criteri che possono permettere a ciascuno i cittadini di Frosinone di dare il proprio contributo ai programmi perché ho visto troppo spesso nel corso degli anni e delle varie legislature consigliature e delle varie campagne elettorali programmi per voi di dall'alto che erano soltanto carta straccia che poi alla fine non hanno promettevano ma non mantenevano bisogna ribaltare la situazione non scrivere i programmi dall'alto e imporli ai cittadini ma dare ai cittadini la possibilità loro di essere una forza che attraverso un contributo di idee ma anche di consenso possano determinare poi le scelte politiche dei politici cioè si sa che al comune comunque come dicevo l'altra volta l'amministrativismo cioè il burocratismo che diventa una specie di assolutismo perché il ruolo dei politici al comune di Frosinone il ruolo dei politici è quello di dare l'indirizzo ma il politico non ha poi la gestione effettiva è la burocrazia se la burocrazia diventa un elemento di ostacolo all'indirizzo politico ecco che si creano dei problemi quindi questo indirizzo politico va mantenuto a livello di classe dirigente ma va anche rafforzato con la volontà dei cittadini che partecipano se i cittadini non partecipano perché non siamo riusciti noi ad essere stati abbastanza coinvolgenti da spingere anche a partecipare a queste elezioni primarie io lo sento più che altro come una sconfitta per la città perché perché quando Nicola Ottaviano ha lanciato questa proposta quella delle primarie ho notato subito una reazione scomposta e contraria di tutti a livello trasversale anche all'interno della diciamo della sua coalizione infatti le primarie non servono per definire i confini della coalizione di Nicola Ottaviani ma di superarla che è diverso non di delimitarla ma di togliere questo limite quindi di proporre qualcosa che evidentemente nemmeno nella sua parte è stato colto appieno o se è stato colto evidentemente qualcuno non è convinto figuriamoci dall'altra parte nel centro-sinistra se possono essere contenti di un'iniziativa che spiazza completamente anche un partito democratico che aveva fatto delle primarie la propria bandiera addirittura Matteo Renzi l'attuale presidente del consiglio è anche il segretario del PD ed è stato eletto segretario con le elezioni primarie in cui hanno cambiato lo statuto e il regolamento per permettere a tutti anche chi non era iscritto al PD di votare per il segretario cioè lì hanno proprio rovesciato la cosa siccome qui diciamo si vota per il sindaco è il sindaco di tutta la città allora è giusto quello che fa Nicola Ottaviani e che mi vede qua protagonista diciamo insieme ai cittadini per partecipare a queste elezioni siccome il sindaco è di tutta la città è ovvio che possono votare tutti senza chiedere la tessera ma quando si vota per un partito politico è normale invece che il segretario del partito politico venga eletto da chi è iscritto non è che possono votare tutti io che non sono iscritto al PD potevo andare a votare per Matteo Renzi queste sono le contraddizioni partitocratiche direi io che evidentemente sono come dei noti e queste primarie sono il pettine diceva Leonardo Sciascia tutti i noti vengono al pettine quando c'è il pettine e ho diciamo la netta sensazione che qui il pettine ci sia e che siano tutti i contrari i cittadini non sono stupidi i cittadini di Frusilone capiscono che le persone che sono contrarie a queste elezioni primarie e stanno cercando di affossarle di denigrarle o di non diciamo non darle peso in realtà evidentemente temono veramente che possano avere successo perché sarebbe il successo dei cittadini ma forse siamo abituati alle primarie contro e non alle primarie per visto che manca pochissimo Fagiolo ma politiche fiscali da candidato alle primarie qualora le dovesse vincere o se non le dovesse vincere abbiamo detto sono primarie per dare un contributo di idee le sue idee sulle politiche fiscali di questa città beh dovrei essere un grosso esperto non ho la conoscenza sinceramente una conoscenza tale per poter consigliare qualcosa a Nicola con i suoi assessori e la macchina comunale sicuramente agirei su quello che è o meglio alleggerirei per esempio da Acea Ato 5 andrei a controllare e staccare qualcosa a favore dei cittadini alleggerirei dei costi che possono essere migliorerei la raccolta differenziata in modo tale da abbattere i costi sull'immondizia però al di fuori di questo per come stanno i conti del comune credo che sia veramente difficile per un arco di periodo un tempo non so quanto necessario non poter migliorare eccessivamente quello che è la pressione fiscale attuale sindaco sta per partire la sigla ricordiamo dove e quando si vota si vota domenica 13 novembre nelle tre delegazioni comunali quindi a piazza 6 dicembre nella delegazione di madonna della neve e in quella dello scalo nella zona di piazza pertini in più ci sarà un seggio itinerante che potrà raccogliere quelle che sono le schede dei portatori di handicap o di persone che comunque hanno difficoltà di disambulazione e vogliono rimanere a casa chi può votare possono votare tutti i cittadini residenti nella città di Frosinone quindi non si chiede né tessera di partire non si chiede nulla l'importante è che abbiano compiuto almeno 16 anni 16 anni il giorno prima delle elezioni quindi il 12 novembre che sia un grande momento di confronto di partecipazione democratico una festa di democrazia e soprattutto una festa per la città di Frosinone noi ci vediamo una curiosità velocissimo secondo il regolamento eventualmente dovessimo prendere tutti lo stesso numero di voti siccome viene eletto e viene candidato il candidato più giovane se avessimo tutto lo stesso voto io potrei farcela quindi ha una percentuale una possibilità e in più il caso di pareggio io sono il più giovane dei candidati insomma sotto sotto ci ha preso gusto grazie per essere stati con noi ci vediamo tra una settimana a stessa ora a stessa rete ci sarà l'appello finale al voto perché poi subito dopo si andrà a votare arrivederci a stessa rete a stessa rete Grazie a tutti.